Professione principessa. Questa è una favola Antò, è pronta a rinunciare alla corona per te. La principessa è un fatto di bogesia. Stai a parlare troppo difficile per il gusto nostro, parlo sempre. La principessa diventa una regina. Automaticamente. Senza fare concorsi. Stop! Prof. Ruotolo? Presente. Bene. Cosa significa guagliò? Guagliò significa ragazzo. Guagliò non si dice, lo sostituiremo con o e bo. E o e bo non capisco che significa. E anche io capisco la metà di quello che dice. A tal scopo ho assoldato un traduttore. Prof. Ruotolo? Presente. Cosa significa guagliò? Guagliò significa ragazzo. Buono guagliò significa bravo ragazzo. Guagliò significa andiamo ragazzi. Bene. Grazie. Prego. Secondo me, secondo te sei contigiano. Secondo me, secondo te sei contigiano. Secondo me, secondo te sei contigiano. Mamma mia. Indifferentemente. Che vuoi da me? Non ti ho fatto niente. Ah! Un uomo è andato, sei rimasto buono. Non ti ho fatto niente. Non ti ho fatto niente. Non lo hai Dua. No hai Dua. Let me siosti che ci siosti finata da Ecco Garoppolo. Grazie a tutti.